L'unico partito che vuole rimandare le elezioni alla primavera, cioè il Carroccio, è anche l'unico ad avere già fatto le primarie lo scorso fine settimana. Risultato un plebiscito per Roberto Maroni, circa 76% delle preferenze riferiscono dalla Lega, nei 1700 gazebo allestiti in tutta la regione. Ora che ha trovato il suo candidato, il Carroccio è disponibile a primarie di coalizione, ma resta contrario a sciogliere il Consiglio questa settimana. Di un candidato leghista non vuol sentir però parlare Formigoni, perché il posto di suo successore spetta al PDL. Intanto la Giunta ha iniziato a lavorare con una prima riunione, 11 assessori, di cui 8 new entry, tra cui professori universitari, un generale dei Carabinieri in pensione e il presidente del CONI milanese. Contro i 16 precedenti, un solo sottosegretario e un delegato alla trasparenza. Confermato lo storico assessore al bilancio Romano Colozzi, confermata l'assessore all'istruzione Valentina Aprea, che si era dimessa dal Parlamento dopo essere entrata in giunta lo scorso febbraio, mentre invece lascia la squadra Ombretta Colli. A dare le prime anticipazioni via Twitter, questa mattina è stato lo stesso Formigoni che ha annunciato l'arrivo alla sanità del presidente dell'associazione SLA, Mario Melazzini, Andrea Gilardoni, docente della Bocconi, all'infrastrutture, ma soprattutto il leghista Andrea Gibelli, alla vicepresidenza. Assessore all'industria, artigianato, edilizia e cooperazione, nonché vicepresidente della Giunta, onorevole architetto Andrea Gibelli. Una presenza doverosa per controllare, secondo il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini, che ieri ha ingaggiato un duello via social forum con il governatore Formigoni e che ha ribadito che si tratta di una giunta di qualità fatta di persone che vengono dalla società civile, che lavorerà per un periodo molto limitato. Lui è sicuro che venerdì prossimo si scioglierà il Consiglio regionale, quindi il prefetto di Milano per il voto potrà scegliere una data tra domenica 16 dicembre e domenica 27 gennaio. Secondo Salvini, però, una volta fissato il termine dell'era Formigoni, dopo 17 anni, accelerare di 15 giorni sembrerebbe una scelta sciocca che metterebbe in difficoltà famiglie ed imprese. Tra le cose ancora da fare, il carroccio mette il bilancio e la riduzione dei ticket, ma soprattutto la legge elettorale. La seduta del Consiglio, prevista per giovedì prossimo, è slittata a venerdì, con discussione ad oltranza, prevista fino a martedì.